Musica 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 E' la prima volta che viaggio solo con un uomo? Ma io non sono... Un uomo? No, volevo dire io sono un amico, un compagno, un fratello, cioè cioè un fratello no, insomma più che un fratello, molto di più e molto di meno, cioè cioè di meno no. Ma insomma che cos'è lei? In questo momento un cretino, potrei anche essere un innamorato con me. Ha, 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 ha! Beh Sì Dove va? Non volevo andare, lo vedo tutti là. Resta qui. Il verichino di papà stasera per Matarazzo, King of Comedy, a cura di Roberto Turigliatto, credo sia il sesto film di questa settimana, il quinto, ma ripeto, Matarazzo è un cineasta col quale vorremmo proseguire, uno di quelli che vorremmo avere sempre in onda in una delle notti di fuori orario o di qualunque dovrebbero stare lì. Il verichino di papà è un film di quelli divisi in due, è un film dove la leggerezza di gioco e la frenesia di gioco, l'entusiasmo, a partire da un testo famoso non italiano, questo è da ricordare un Vesel, è di nuovo Armando Falconi, Anna Proclemer, Carlo Campanini, un cinema dell'intensità, della compressione e del rilascio poi, del momento del ricatto familiare o del gioco, se lo vediamo insieme al giorno di notte sono due grandi film, sono coevi praticamente, primi nel 40, 42, 43, è già un film che senza fare dichiarazioni ideologico-politiche mostra il necessario dissolversi o meglio scindersi di una situazione sociale data per costituita dalla pura forza dell'osservazione, diciamo che allo sguardo di alcuni personaggi è anche lo sguardo del pubblico, qualunque pubblico che è anche magari reazionario, però è la sua parte birichina, la sua parte che ambisce altro, che può prendersi un momento, una visione, un ruolo. Ricordo che l'altro giorno, ieri, stanotte, un giorno fa, abbiamo accostato a Treno Popolare il film di Luciano Emmer, lì era fatto tra due cinemi diversi, qui diciamo che questa suddivisione, questa scissione invece è interna allo stesso film, cioè quella scatenamento anche della forza comica, quindi in qualche modo non solo di vivacità, ma anche di godimento, che invece porta in sé, così come ricordato per primo da Trovatos, per primo da Ennio Flaiano in domenica ad agosto, che vedeva lì una sorta di principio concentrazionario, ovvero proprio l'ager della domenica, per primo usando questo termine, di fronte alla buonomia che si accreditava volentieri a Emmer, diciamo che il birichino di papà è un film di questo regista a molte teste, a molte facce, che è Raffaello Matarazzo, che ripeto, non lo riconosciamo in una delle figure, ma in qualche modo è tutta, così come ogni suo film è un meccanismo completo, complesso, non è possibile dare di lui un ritratto preciso, King of Comedy è sbagliato, scusate, è un errore mio, Matarazzo Comedy of King, non di Dio, ma di quelli che vogliono, che sperano, che tentano, che temono di essere re a Hollywood come ovunque, quindi anche a Cina, città, ovunque del mondo facendo dei film, chissà perché, birichini, papà, papà dei birichini, Comedy of King, buona visione.